Ciao, io sono Ilaria, io sono Sara e io sono Carlo, veniamo da Roma, questo è il quarto anno che ascoltiamo le nostre vacanze qui a San Salvador, ci troviamo bene, una cosa che mi piace è che non ci si sente postiti, ma veramente c'è un'atmosfera molto familiare che mette a fare l'agio. Io mi trovo bene, si mangia bene, Stefano e Federico sono bravi e stilpatici. Ti diverti qui? Sì. Vero, si sta bene? Sì.